coccodrilli eccoci qua quest'oggi per voi abbiamo mixato vero abbiamo mixato che vuol dire mixato? ma che vuol dire mixato? vuol dire che abbiamo messo insieme un po di video del passato ok? andiamo con il primo video ma tu ti ricordi quando c'è stato un tentato furto della macchina? come no? io non ho mai da dire come ti vengono pensate io sto lì calmo per bene sto aspettando e mi ha detto aspettami di qui andatela a vedere oh a le parcheggio di qui tu aspettami di qui aspettami di qui aspettami di qui ma smorzo che smorzo? ma smorza sto frullo? arrivo subito tu cazzo agito sto struzzo ma chi sei? chi sei tu? perdete! perdete! stai morti! mi rompo la macchina e non mi vede! perdete! perdete! io sto io sto! testa di cazzo! se tu vuoi non mi dici niente! dio sc**a! ma dai mi arrivo! vorrei a piedi! vorrei a piedi che te cazzo! che mi fai cuciti? mi scendi! voglio scendi voglio! voglio scendi! ma che dio sc**o! sto cuori in bacio le cucine! dio sc**o! siccer penso! siccer penso quanto sei stronzo! quanto! ma andiamo avanti! andiamo con il secondo video! questa volta non facciamo nessuna premessa! guardatelo! ti ho fermato a mettere la bella nafta! ma perchè no? e perchè sinceramente incamina! eh! si ferma! ho fatto una cazzata mi sa! come hai fatto una cazzata? ho messo la benzina! ma che hai fatto? ne scherzerai! ho messo la benzina! no! mi sono sbagliato! cosa la fa? ma come ti sei sbagliato? ma no! mi sono sbagliato! mi sono sbagliato! ma come? ma come? fermati! ma prova a cielo! ma non metto in moto! mi spacco il motore! ma che cazzo c'entra la testa! salame di lì! tu? non ne hai sbagliato! ho sbagliato! ho sbagliato! stavo sbagliato! stavo! stavo sbagliato! stavo! non chiamato tutto il serbatoio! o no! è uno scherzo! ma tu non mi scherzi! questa è mia da parte! ma beh! allora non è uno scherzo! sei uno stronzo! sei uno stronzo! arrivo a casa! stavo! arrivo piedi! vado via! ma dai! stavo! 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 ma dove? per fortuna che era uno scherzo! perché si mi è messa la benzina! non c'è la mia macchina che va a gasolio ti ammazzavo e come no se ti dico mette la nonna mette la benzina fortuna che ne era vero davvero come avete potuto capire il nonno è super geloso della sua macchina ma andiamo avanti con il terzo scherzo io lo dico al nonno vediamo se si sta attente sta attento che c'è il muro da lì sta attento fermate nel muro non c'è c'è il muro ti vorrei fermare ma che è poggiata che è poggiato che è poggiato mannaggia ma io non mi strapparia tu di capo a fare un lavoro del genere senza di che c'è il muro fermate ma l'ho poggiata ma che è poggiata la macchina mia l'ho da pia ma no scherzavo fa così con la botta allora si è andata la botta come sempre sta calmo la chena ma è in testo di macchina tutto mi pianca per culo bene sono piaciuti sti scherzi finora senti che voglia tu andiamo avanti con il quarto stavamo andando a col fiorito ti ricordi e come mi ricordo anche abbiamo ammazzato ancora a un certo punto che ha detto no io ti dicevo mette la napta mette la napta che è marca rosso mette la napta perché c'era la spia accesa ti ricordi no perché lui quando vede metà serbatoio lo rimette subito vero ma in questo caso l'ho gabbato ti ricordi ora andate a vedere il quarto video the next video degli coccodrilli the next video no te l'ho a vedere the next video ma qui è che è the next video ma io ma non c'è affanculo no che io guardate queste parole queste parole difficili dell'economia che fatto è la benzina è finita è finita la benzina che sta detta una calmata ma che è calmata adesso scende poi l'autostrada lei l'autocazzo va a casa poi l'autostrada io ora veni via con te che sei scemo ma sta calmo ti ho detto mette la napta mette la napta ma sta calmo ma che sta calmo che è sarei ammazzati non sta calmo stronzo è uno scherzo ma che è scherzo è uno scherzo bene è vero ammazzati a mette la napta adesso c'è moto lì ma che ancora vuoi camminare così ci vuoi sta calmo ma che sta calmo ma io c'ho colpa lì che ci vengo che ci vado a venire con te eppure avevi detto un'altra volta o dormire ma che dormi che riposavo gli occhi abbiamo visto insieme e rivissuto queste quattro esperienze questi quattro video vero però noi vi aspettiamo sempre qua iscrivetevi al nostro canale youtube canale youtube iscrivetevi mettete iscriviti e noi vi faremo sempre divertire vero ah beh per quello è sicuro ciao saluta ciao saluta ciao 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 oh no ma saluta meglio ma che salute fa ma come la saluta come fa il saluto un po' ciao 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 Grazie.